Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati qua su Ranch Simulator. Perché porto anche oggi Ranch Simulator? Perché voglio andare a provare a fare le salsicce. Ma avete scritto nei commenti come si fanno le salsicce, come si cattura il maialotto. Bisogna andare a comprare lo storditore. Io si vede che so veramente un po' rimbambitello. Ieri non l'ho visto lo storditore, raga. Ma avete detto, ma non l'hai visto? Cioè lo storditore è al negozio. Non l'ho proprio visto, amici miei. Quindi andiamo subito, immediatamente, a cercare di comprare lo storditore. E vediamo se riusciamo oggi a dare vita alla produzione delle salsiccette. Salsiccette, le sarracicce, le sarracicce fresche. Da noi ragazzi le sarracicce si chiamano anche i rocchi. I rocchi, un bel panino col rocchio. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ok, scendiamo, scendiamo. Così ci facciamo i rocchi. Buongiorno signorina, volevo lo storditore per fare i rocchi. Buongiorno. Allora, vediamo un po', vediamo un po' dove è sto storditore. Piede di porco? È questo quando hai tagliato il porco? L'avete capito la battuta? Eccolo lo storditore, non l'avevo vidisto. Vissuto. Vidisto. Allora, ok, ho comprato lo storditore, signorina la ringrazio, arrivedergliela. Dov'è lo storditore? Eccolo qua. Che è questo? Ma questi sono i proiettili. Aspetta, sono i proiettili che mi sono scordato ieri, non l'ho comprato ancora. Oh, non ci penso mai che qua è come Amazon. Qua è come Amazon, raga, qua è come Amazon. Devi confermarla qui. Ma che è? Ma questo è l'estintore. Questo è l'estintore, non è lo storditore. Chissà come cacchio funziona sto coso. Boh, vabbè. Ma andiamo a vedere come funziona, raga, eh. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo a vedere come funziona. Oh, c'ho lo shop proprio vicino Casocchia. Vicino Casocchia. Ok, ritorniamo a Casocchia. Bello, voglio fare le sarrcicce fresche. Le sarrcicce fresche che poi le vendiamo alla paninoteca. Alla paninotecuzza. Ma ragazzi, come si fa a recuperare la macchina? Cioè, è possibile non hanno messo una funzione per switchare sui mezzi? Amici sviluppatori, se mi seguite, mettete una cacchio di funzione, per favore, per switchare sui mezzi. Perché io mo non posso andare fino allo shop a piedi dove ho lasciato la macchina. La macchina, raga, l'ho lasciata nel negozio, nel negozio dove ho comprato il camion. Quindi, non posso monna fino all'è a piedi per recuperare la macchina. Porca miseria. E mettete una funzione che tu riesci a salire sulla macchina. Mamma mia, ragazzi, pesa sta strada. Pesa sta strada. Oh, se fa sentire il peso del camionno. Allora, vediamo un po'. Eccolo là, il maialotto grassotto. Apriamo il cancello. Accendo pure la luce. Vediamo un po' come funziona sto storditore. Vediamo un po', vediamo un po'. Maialotto. Ah, tra un po' esplode sto coso, sto maiale, oh. Come si usa? Come si usa mo' sto coso? Fatemi capire. Ragazzi, come... Ok, prendo la pistola. Zoom. 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 Ma non funziona. Ma che è sta sola, raga? Ma che cos'è sta sola? Ma non funziona. Ragazzi, non funziona. Ah, così, è stato così? È stato così facile? Aspettate. Ho fatto. Ah, glielo devi fare in faccia, allora. Glielo devi fare in faccia. Aspettate, eh. Fatemi posà. Fatemi posà sto coso. Tieni premuto per spellare. Ehm, la ciccia, troppa ciccia, troppa ciccia, aspettate, raga, devo andare a prendere il contenitore. Troppa ciccia. Ma guarda, mi sa che i maiali sono pure cannibali, eh. Se potrebbero mangiare il loro compagnetto, eh. Mi tocca sbrigarmi. Mi tocca sbrigarmi. E quelli se mancano tra di loro. Eh, la miseria, raga. Non avevo ben capito come funzionava. Adesso ho capito. Adesso ho capito. Via, giù le zampe, eh. Giù le zampe. Allora, allora. Bello, bello, raga. Guardate quanta ciccetta. Sì, ma a Sapello facevo un'altra... A Sapello facevo un'altra... Ne compravo un altro di questi. Porca miseria. Mica me basta. Mica me basta uno. Aspettate, eh. Ma funzionerà il frigorifero qua? Funzionerà il frigorifero in casa, raga? Non lo so se funziona il frigorifero. Vediamo un po' se funziona il frigorifero. Non c'è la luce, entra sta casa. Oh, ok. Vediamo di posare... Allora, raga. Mo' devo prende... Devo prende la ciccetta, l'appoggio qua. La ciccetta, l'appoggio qua. Ok. Svuoto un attimo tutto. Che mi serve per fare la ciccia qua. Ma porca miseria. Mo' vado a dormì, però. Facciamo tutto domani mattina che... Il sistema luci non mi sembra proprio il massimo. Er toppe. Non mi sembra er toppe. Raga, facciamo salsicce come se non ci fosse un domani. Facciamo... Mettessero una cosa del genere su farming. Giants, te prego. Metti una cosa del genere su farming. Che son l'uomo più contento del mondo se mi metti una cosa del genere su farming. Questi dormono, meno male. Va, questi intanto dormono. Così io raccolgo la ciccetta e loro non mi scappano via. Ok. Perfetto. Tacche, 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 me ne sa avanzate due. Ok. Apri, apri. Raga, qui bisogna lavorare allacramente. Allacramente. Se ci fosse un sistema di illuminazione decente Tra sta casa Potremmo anche lavorare di serocchia Di serocchia Ok, intanto metto lì Vediamo, spegniamo la torcia Vediamo se c'è la luce in cucina No, qui per far fermentare i formaggi Vediamo un po' Non c'è l'interruttore della luce Ragazzi, non c'è l'interruttore della luce Sì Oh Allora, vediamo un po' Si prende sto pezzo di Dov'è l'insaccatore? Eccolo, chi è che me l'ha buttato via? Allora, si prende l'insaccatore Aspettate Allora, sicuramente si prende un pezzo di carne E la si mette dentro E si accende Ma va per terra la carne? Ma la carne va per terra? Oh Abbiamo sprecato la carne Ma quindi questo va sotto Aspettate Porca miseria Raga, qui non va bene Ci siamo messi in un puntaccio Non si può togliere la sedia? Allora, un attimino Qui c'è l'insaccatore Che butta via la carne E sotto va la carne L'abbiamo buttata tutta per terra Abbiamo sprecato la carne Poi c'è questo Che sicuramente Va sotto Mi sbaglio raga Questo va sotto Riproviamo Riproviamo Sa quanta carne Sprecamo Me lo immagino E mo? E mo come funziona? Mo come funziona? No raga Non ci sta a capire niente Ho rispregato la carne Ragazzi Ho rispregato la carne O la carne sta dentro No, non ci sta a capire niente Boh, non ci sto proprio La carne dove sta? La carne che io macino Dove sta? Come si prende la carne che io macino? Forse devo svuotare questa? La devo svuotare raga? Vabbè la butto per terra Dai mamma mia Non ci stiamo a fare troppe Troppi problemi Allora Non ho ben capito raga Se devo Metterla dentro qua E poi da dentro qua Versarla dentro lì Non ho ben capito Vediamo un po' se c'è qualche tutorial Strano Non lo so se c'è qualche tutorial Strano Allora Vediamo No No Non riesco a capire raga Non riesco a capire Ma allora Questa la devo mettere qua dentro Direttamente No Porca miseria La carne è insaccata Dannata Vediamo un po' se c'è qualche tutorial Glossario Ti servirà una bella dosi di cereale E fa quel punto Dovrei macerare e consegnare la carne No Non 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 parla Non parla Della carne qua raga No Veramente Non riesco a capire Ci vuole una pentola sotto Ma Oh Ecco Ci vuole la pentola sotto Ci vuole la pentola sotto Allora aspettate Aspettate un attimo Se no è brutto Aspettate un attimo E facciamo così Mo Ho capito Oh Mo Ho capito Mo Ho capito Quindi l'abbiamo sprecata tutta quella che abbiamo buttato Che amarezza Che amarezza Oh Ok Questa è la poltiglia di carne Adesso Questa qua Aspettate Adesso Questa qua la prendo La metto qua E qua fa la stessa cosa Qua c'è Ci vuole un contenitore Ok Qua ci vuole un contenitore Mo Ho capito raga Ci vuole un contenitore E Col contenitore Inserimo dentro E mo E mo la salsiccia Guarda Va per terra Guarda Tu sta Dove esce la salsiccia Per terra Ok Perfetto Perfetto Ho capito tutto Ho capito tutto Raga Ho capito tutto Raga Ho capito tutto Allora Ok La salsiccia La salsiccia fresca La salsiccia fresca La metto qua Qua Questa è carne La carne macinata Non si può usare Però purtroppo Da sola Va messa dentro La pentola Per forza Ok Va messa Dentro La pentola Per forza Ah ok Non si può Cioè una volta Che tu l'hai presa in mano Non la puoi più Non la puoi più Rimettere nella pentola Mi piace sta cosa Cioè praticamente Questa Una volta Che l'ho tirata fuori Non la posso più Mettere Né nella pentola Perché vedete Non me la fa prende A parte che Sembra cacca Comunque a vederla così Ok Questa va venduta A parte Allora ormai Allora raga Non ve sbagliate Perché se no Non ve sbagliate Perché se no Ok ok Dai 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 Ho capito Ormai ho capito La procedura Ragazzi Salsicce fresche Facciamo salsicce fresche Tutta la notte Ok Salsiccette fresche Tutta la notte Ok raga Che produzione De salsiccette Che produzione De salsiccette Io voglio tutto questo Voglio tutto questo Su farming simulator Non so voi Ma io Lo voglio Io I want it I want it I want it Ok Salsiccette fresche Mi dispiace Che le butta per terra Ma Non c'ho Adesso Dovrei spostare Sto cosetto Su un'altra Da un'altra parte Ma ovviamente No No Ovviamente Sono troppo pigro Per far una cosa Del genere Ecco fatto Ma non me la prende più Porca miseriaccia Aspettate un attimo Ok 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 Non si possono spostare sedie Ora che ora Raga non si può vedere che non si possono Spostare sedie Dai dei salsicciotti Oh Dai dei salsicciotti Dai dei salsicciotti Allora possono recuperare pure intanto Quei due pezzi di carne Che stavano Per terra Nel recinto Nel recinto Andiamo Andiamo A prendere due pezzi di carne Che stavano per terra Nel recinto Così sono tutti Ma le salsicce poi le posso recuperare Qua dentro Ditemi che le posso recuperare qua dentro Uno Due Ditemi che le posso recuperare qua dentro Mo vediamo Se le posso recuperare così Le mettiamo già stoccate Le portiamo a vendere Perché ho paura che la roba Poi mi si rovina Ho paura che la roba Mi si rovina Allora Rispegniamo la luce Che c'è quella di casa Ok Ok A posto Vediamo se posso Sì 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 Le posso inserire qua dentro Le posso inserire qua dentro Bellissimo Bellissimo Oh Le posso già inserire là dentro Invece di lasciarle Così per strada Bellissimo raga È stupando la produzione Salsicce È stupanda Stupanda Accendiamo Ma facciamo una cosa Sanna Andiamo a dormire però Così Continuiamo domani mattina Con la luce Continuiamo domani mattina Con la luce Perché non si vede più niente Salvare e dormire Buonanotte A posto Buongiorno mondo Buongiorno mondo Andiamo a vendere Salsiccette fresche Stamattina Andiamo a vendere Salsiccette fresche Fatte Fatte proprio oggi Ok Intanto io Vado un attimino A spegnere la luce Mo c'è troppa luce Prima ce n'era poca Mo c'è troppa Qual era l'interruttore De qua Dov'è l'interruttore De qua Non lo trovo più Eccolo Ma ecco Prima c'era poca luce Mo ce n'è troppa Un attimocchio Raga Un pezzo di carne qua Un pezzo di carnetta qua Ok Tutto molto bello Tutto molto bello Ve lo dice Robimello Che è tutto molto bello Oh K No Mi sono sbagliato Ho preso la poltiglia Vabbè Andiamo a vendere Sta roba Dai Quanto manca ancora Eh ma ci vuole ancora un po' Eh ci vuole Mi sa ce ne va ancora De robina là dentro Mo non so di preciso Quanti pezzi ci vanno Ma credo Che Ce ne vanno Abbastanza Ok Ce ne vanno abbastanza Raga Perfetto Inserisci 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 Ok Ok Eh poi Poi dobbiamo passare Le vacche Perché ormai abbiamo capito Come fare Le salsicce Il prosciutto Cioè le salsicce Il cosino E la carne macinata Adesso dobbiamo passare Alle vacche Per vedere come fare Fatemi sapere Fatemi sapere nei commenti Se anche voi avete i maiali Quante salsicce Ce fate Allora Qui ce ne abbiamo fatte Veramente tante Vabbè è finito Raga È finito Quindi andiamo a vendere La nostra bella carne Ecco qua ci faceva comodo La macchina Cioè non si pone in giro Col camion Per venne Una cestina De salsicce Comunque ecco Ci servono più ceste Queste qua Ci servono più ceste Di queste qua E allora Vediamo un po' Non è segnato Purtroppo L'autogrill Lì Però So che sta vicino Al concessionario Quindi Quindi basta mettere Il concessionario Ammazza che nebbione Stamattina C'è un nebbione Pazzesco Andiamo a vendere Ci salutiamo Dai andiamo a vendere Se salsiccette Vediamo Uuuuh Porca miseria Vedete Quanto è facile Raga Uno parte la mattina Allegramente Per Per andare a vendere La salsiccia Gli sbanda tutto E ce rimane E' un attimo La vita è un mozzico Porca miseriaccia Non si controlla Sto camion Mi tocca andare Al concessionario E E Dagli una revisione Una revisionata Sto camion Perché Non si controlla Raga Non si controlla Veramente Mamma mia Credo che sia questa La strada giusta Spero Credo Me lo auguro Me lo auguro Occhio Mamma mia Raga Non si controlla Cioè Non si guida Raga E' difficilissimo Mamma mia Mamma mia Raga Mi sto nervosi No Vi dica sincera Vedità Mi sto nervosi Perché non è possibile Guidare una roba Del genere Ma che è La casa Nella baita La casa Nella prateria Ma che è Ma che posto è Ma dove sto No No raga Dai Non ce posso credere Ma dove sto La casa Nella prateria Ma dai La casa Nella prateria No Mi sono perso Eh no Bisognerà Andare su strada Principale Raga Perché qua Non è Non è aria Questo qua Non gliela fa In mezzo ai boschi In mezzo alle cose Riprendiamo la strada Principale Per carità Per carità Riprendiamo la strada Principale Laggiù vedo qualcosa Laggiù vedo qualcosa Questo è lo shop E che c'è fuoco Lo shop No Devo andare In salumeria Io In salumeria Non in salumeria Nel cosetto Che vende Gli hamburger Che gli vendiamo Le nostre belle Salsiccette fresche E loro ce fanno Gli hamburgeroni Allora Vediamo un po' Vediamo un po' 10 e 32 del mattino Ancora Ne abbiamo venuto niente Piano Eccoci Questo è il concessionario Eccolo lì il mio quad Vedete No aspettate Qual è il negozio De sarcice Eccolo Il Il coso qui Il mac Il mac e robbie Il mac e robbie Allora Prendiamo Sto coso Entriamo Buongiorno 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 Ma non c'è nessuno Buongiorno Buongiorno Formaggio Uovo Salsiccia di pollo Moltiplicatore di prezzo Che frutti Che frutti Ah Se gli dai sta roba Te paga il triplo Si ho capito Io devo solo vendere Come faccio a vendere Ehm No children Cioè Se io lascio qui la roba Ragà Non sto capendo Ok Così Ah ecco Ecco Vendi tutto Vendi tutto 450 euro Raga 450 euro Ci hanno dato 450 euro Mica male Raga Mica male Mica male Amici miei Voi fatemi sapere Nei commenti Se Se vi è piaciuta Questa puntata Se vi è piaciuta Tutto Tutto questo Tutta questa puntata Salsicciosa Eccola Definirei Una puntata Salsicciosa Commentate Commentate Lasciate un bel like Iscrivetevi Vi ricordo che in descrizione Trovate anche l'altra mia piattaforma Dove sono in live Tutte le mattine Alle 11 E tutte le sere Alle 20 e 30 E poi vi ricordo Che tutto questo È possibile Grazie agli amici abbonati Che sostengono il canale Che sono l'anima La vita E il cuore Di tutto quello che faccio Grazie 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 Amici abbonati Se anche voi volete Allungare la vita Di questo canale Sostenerlo In quello che fa Potete farlo Al costo di Un caffettino Al mese O qualche caffettino Al mese Dipende dal piano Che sceglierete Bella sta Bella sta Sta scorciatoia Stupenda Sono il re delle scorciatoie The king of the scorciatoies Detto questo amici Noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Ciao Ciao